E' vero che è divenuta un po' la pelle d'occa quando ha preso questa telefonata? Ma diciamo che non sono abituato a ricevere telefonate con dei consigli non richiesti, ecco. Succede quando tocchi il mondo del gioco d'azzardo, come ha fatto il consigliere a novembre con una mozione ai 300 per la regolamentazione delle macchinette nel territorio comunale, subito seguito da una telefonata degli amici degli amici. Mi è stato detto che potevo anche fare a meno di utilizzare questi strumenti. Un mondo dove più volte sono stati scoperti collegamenti con organizzazioni mafiosi internazionali e dove a volte succedono fenomeni strani, come quello legato alla vincita di San Biagio delle scorse settimane. Penso dove si comincia a giocare poco si attira l'attenzione dei gestori del gioco. E' un mercato, un libero mercato dove c'è domanda e offerta, quindi vengono stimolate le azioni da marketing e per questo magari capita la vincita grandiosa per attirare altri clienti. Così quando si è trattato di portare la mostra contro il gioco d'azzardo che aprirà venerdì in biblioteca a Treviso o dal comune lungo la Callalta hanno, come dire, un po' stato il naso. San Biagio ha fatto un po' quasi marcia indietro. Beh, questo l'ho detto in modo scherzoso perché era proprio nei giorni in cui a San Biagio c'è stata una grossa vincita quindi sembrava quasi un po' una presa in giro coinvolgere San Biagio in questa cosa. Una mostra proposta dall'opposizione, votata dalla maggioranza, ha dimostrazione che certe tematiche vanno oltre la politica. Io sono convinta che quando le cose sono condivise l'esito sia migliore. Quindi se viene un suggerimento da parte di qualcuno che non fa parte del mio gruppo politico, perché rifiutarlo?